Grazie a Fabio Stassi, questo progetto appunto Footbook racconta il calcio raccontato, quindi come dire un viaggio attraverso libri e calcio. Fabio tu sei diciamo uno che ha scritto tanto e ha scritto anche dei libri dedicati al calcio, poi non solo, anche agli scacchi, sei anche autore insieme a Marco Redi quando la vita era piena di gol, quindi uno spettacolo teatrale che racconta questo mondo, questo universo del calcio e quindi vorrei chiederti di aiutarci un po' a fare un piccolo viaggio all'interno di questo mondo. Abbiamo 45 minuti come se fosse un tempo di una partita di calcio e vorrei anche partire da una cosa che mi incuriosiva perché in questi giorni esce Mastro Geppetto, tuo nuovo libro dove ancora non l'abbiamo letto, non l'ha letto quasi nessuno, nel senso che esce nei prossimi giorni e non so se ci sarà il calcio dentro o in qualche modo ci rientra per qualche motivo, però mi divertiva questo fatto che da quello che ho letto, dalle interviste che ho letto nei giornali eccetera eccetera, mi pare che ci sia un gioco anche di prendere un punto di vista diverso in una storia che appunto fa parte ormai del mito, insomma fa parte anche del nostro immaginario che è quella di Pinocchio, che tutti hanno raccontato, se pensiamo Benigni per dire dal punto di vista di Pinocchio, poi invece forse il ruolo migliore di Benigni poteva essere quello di Geppetto anche nel suo Pinocchio e mi incuriosiva questo fatto appunto dei punti di vista, di vedere le cose da un punto di vista diverso e quindi come dire ti chiederei di essere un po' Mastro Geppetto in questo viaggio che facciamo nel calcio e quindi vorrei iniziare col chiederti come si può vedere in maniera differente il calcio oggi, ancora oggi, che è diventato appunto uno spettacolo estremamente social, estremamente finanziarizzato dove le superleghe rischiano un po' di, come dire, toglierci il gioco. Grazie Alessandro, è un saluto a tutti intanto, sì, tra l'altro vedo Carmelo che hai dietro le spalle Carmelo bene, che fu un altro che raccontò Pinocchio, sì, partiamo proprio da Pinocchio perché un po' è anche dai miti dell'infanzia, un po' perché l'idea di Mastro Geppetto è stata proprio quella di rileggere una favola da un punto di vista realistico di qualcosa che forse era sotto gli occhi di tutti ma nessuno vedeva, cioè che Pinocchio è semplicemente un pezzo di legno inanimato ed è uno scherzo feroce concepito in un'osteria ai danni del più inerme del villaggio. Forse con il calcio anche dovremmo provare a ritornare alla nostra infanzia e la domanda vera, profonda per me almeno è stata scrivendo Mastro Geppetto ma un po' scrivendo un po' tutti i libri che ho scritto perché Geppetto è solo il punto di arrivo di tutto quello che ho scritto e forse anche di quello che scriverò è come può sopravvivere l'incantesimo in un mondo disincantato. Il vero tema e questo riguarda anche un gioco come il calcio che abbiamo amato e amiamo ma riguarda tante passioni della nostra vita, la musica, la letteratura, come poter far sopravvivere l'incantesimo in un mondo disincantato. Siamo immersi nel disincanto. La contemporaneità, mi sembrava, non so se era Max Weber o un altro filosofo che diceva che il capitalismo e la contemporaneità sono il disincanto del mondo. Ora forse bisogna tornare agli occhi che avevamo da bambini, ma non degli occhi disposti ad abbracciare l'incantesimo, ma non per questo illusi o manipolabili. Nel senso che i bambini guardano la realtà e guardano le cose come sono e anche le favole sono atrocemente realistiche. Ecco, da questo punto di vista io proviamo a partire proprio dall'inizio, quindi per me da quando ero bambino attraverso il calcio passavano molte cose. Intanto passava principalmente, almeno per quelli della mia generazione, il rapporto con i genitori e il rapporto con i padri, a proposito di Geppetti e di Geppetto. Tuo padre ti portava allo stadio, ti introduceva nel mondo, entrare in uno stadio era come essere ammessi tra gli adulti. Io ricordo con un'enorme emozione la prima volta che mio padre mi portò in uno stadio. La prima volta mi raccontò perché lui aveva cominciato a tifare la Roma, squadra che poi inevitabilmente ho tifato anche io, perché mio padre era un emigrato siciliano che si era trasferito a Roma alla fine degli anni 50 e appena arrivato, lui veniva dall'entroterra siciliano da Caltanissetta dove andava a seguire la Nissena, che era la squadra di Caltanissetta, mi raccontava di una partita improbabile tra pupari e giocatori in cui i pupari muovevano, giocavano con questi pupi, ma erano dei discorsi, dei racconti esilaranti a volte della provincia, di come seguiva il calcio e lui appena arrivato a Roma andò all'Olimpico, andò all'Olimpico ma ancora non aveva deciso chi e per cosa tifare, ma la prima partita fu una Roma-Sampdoria, siamo alla fine degli anni 50, primo tempo, la Roma vince 3 a 0 e sembra fatta, come al solito, e siamo molto abituati, devo dire, come romanisti a queste disavventure, risultato finale alla fine del novantesimo, 5 a 3 per la Sampdoria. Mio padre uscì da quello stadio dicendomi ecco ho trovato la nostra squadra, ricordati, e mi diceva da quando ero un bambino, ricordati, noi saremmo sempre dalla parte di chi sembra che abbia già quasi vinto e poi viene questo rovescio inverosimile della sorte, del destino. Cioè lui aveva riconosciuto nella sfortuna nei rovesci di quella squadra di calcio un po' la storia della sua famiglia, la storia della nostra famiglia, e comunque vai sotto, però devi sempre sperare che ci sia un tempo supplementare alla vita. Ecco, e ben godere. L'epica dei perdenti, che poi ritorna molto anche nei libri che sto scritto e anche, diciamo, molto credo, poi ne parleremo, magari anche nel racconto di molti tuoi amici o comunque di scrittori che tu hai amato. Ma come si concilia un'epica del perdente in uno sport dove, come dire, poi comunque da gusto vincere anche o bisogna sempre vincere, no? Insomma, adesso noi veniamo in Italia, come in altri campionati, abbiamo squadre che vincono nove campionati di fila, cioè come dire, si uccide anche la possibilità che ci siano i Verona, i Leicester o le Sampdoria, no? Per rimanere, diciamo, in Italia. È proprio così, perché ogni tanto succede che Leicester vince la Premier League, ogni tanto succede magari una volta ogni trent'anni, succede che uno scrittore come Remo Rapino vinca un premio campiello lo scorso anno con una casa editrice come la Minimum Fax. È quella cosa che non puoi prevedere e per cui vale veramente la pena vivere e tifare in qualche modo. Ma per me, adesso che ci penso, mentre parlavi, l'epica dei perdenti risale veramente alla mia infanzia, perché sai che succedeva? Io mi innamorai del calcio, oltre che andando allo stadio con mio padre, vivendo quello che poi era il lato sociale del calcio. Noi avevamo, andavamo in curva dove c'erano tutta gente che lavorava, gente umile che lavorava nelle poste, telegrafi, oppure veramente faceva i lavori più umili. Eppure era bellissimo, io ricordo ancora l'allegria di quelle domeniche pomeriggio e anche la condivisione, la solidarietà. tra le persone. E quindi il calcio era un pretesto. Ma io poi mi innamorai perché facevo, non so se da bambini, noi non avevamo nemmeno il subute, ancora non l'avevano inventato, ma non esisteva naturalmente i giochi elettronici. E io sai come giocavo? Come pallone accartocciavo o una mollica di pane, o il rivestimento di una caramella, un pezzettino di carta, poi avevo due porticine bianche piccolissime, scrivevo i nomi dei giocatori, sono dei pezzettini di carta e giocavo per terra, una volta si è stato molto per terra, proprio nella mia stanza, simulando le azioni acrobatiche, fulminanti, insomma, il funambolismo sportivo. Ma quello era quasi i giochi dei poveri, ti bastava una mollica di pane e un pezzetto di carta. Ma l'epica della sconfitta, dei perdenti, probabilmente mi viene proprio dal primo campionato del mondo a cui io ho assistito da bambino, cioè il Brasile del 1970. Ho qui una cosa da farvi vedere, spero che si possa vedere. Questo è un reperto, è un reperto veramente, non so, va de Mexicum 70. È un giornale, guarda qua c'è Zoff. Giovane Zoff. Sì, giovane. Poi c'era, perché erano tutte le squadre di quel campionato, l'Urse, c'era l'Urse, naturalmente, l'Unione Sovietica, i giocatori dell'epoca. E c'era, questi disegni, il primo, la prima mascotte di un campionato del mondo del calcio fu proprio questo pupazzetto di plastica lucida che si chiamava Juanito, che è maglietta e calzoncini verdi, calzoncini bianchi, calzoncini bianchi, mi sembra scarpini neri e sombrero. Ma se lo trovo c'era anche un disegno con Valcareggi nei panni di Sisifo che regge il mondo. Valcareggi fu... ah, ecco, no, insomma, ne... guarda questo disegno. E poi il tabellone su cui scrivevo i risultati delle partite. Fu la più grande delusione della mia infanzia, perché l'Italia arrivò in finale, con quella semifinale che mai nessuno di noi potrà dimenticare, chi l'ha vissuta direttamente. All'epoca le partite della nazionale univano le famiglie, ci si trovava tutti, io ricordo in questa casa di Trastevere, tutta questa allargatissima famiglia siciliana migrata, immigrante, che si riunì per... ah, eccolo, guarda, scusa, guarda che bello il tabellone, con la coppa di me sopra, e tutte le partite, l'Italia che batte il Messico ai quarti, e poi in semifinale la Germania 4-3. Quella partita non la dimenticherò mai, perché mio zio al gol di Rivera avevamo un lampadario di... di... quelli di vetro, con le... con le gocce di vetro, al gol di Rivera saltando, fece saltare anche parte di questo lampadario, ma... e poi la finale col Brasile. Ecco perché l'epica dei perdenti, la finale col Brasile, in cui se poi io l'ho rivista tante di quelle volte, nel primo... nel primo tempo, finì in parità, e Riva ebbe anche una grande occasione. Riva, che per me era un eroe omerico, era Achille, appunto, era Ettore, se vogliamo, oppure... comunque l'eroe che poi... che poi perde, perché dall'altro lato ci sono i marziani, c'è Pelè, c'è Pelè che va in cielo, salta e rimane sospeso, un tempo infinito sulla testa di tutti. Ecco, quella... quella delusione mi... mi segnò profondamente anche per il lato romantico eh... della faccenda, perché c'era questa coppa che io... adesso vi faccio vedere i miei... e questo è il modellino che poi eh... ehm... presi eh... col subuteo e da quando poi diventai più grande. Eh... questa coppa andava a chi l'avesse vinta tre volte e quella finale avrebbe decretato per sempre chi l'avesse vinta, perché sia l'Italia che il Brasile l'avevano vinta due volte, anche l'Uruguay, che poi era un altro dei semifinalisti. Eh... e quindi non fu soltanto perdere il campionato del mondo, ma fu perdere quella... anche se vogliamo. Perché? No, dico anche la chiusura di un'epoca, perché con la terza storia praticamente... Sì. La comparimenti riusciva dai giochi un po' anche, se vogliamo, come nel tuo libro è finito il nostro carnevale dove a un certo punto scompare, diciamo, questa coppa viene rubata. Sì, e finisce il novecento con quella partita. Per me è il secolo breve, finisce con quella partita. Anche un po' con quei mondiali inizia anche un calcio spettacolo, piano piano comincia a cambiare proprio forse l'idea di calcio come spettacolo. Io, diciamo, il mio mondiale è il mondiale dell'82. Io, diciamo, ero bambino nella riviera Adriatica nell'82, quando appunto l'Italia vinse invece quel mondiale. E anche rispetto al mondiale del 2006, naturalmente, il mondiale dell'82 ha qualcosa, diciamo, un sapore diverso, un mondo diverso. E, diciamo, è molto legato all'infanzia, all'essere, come dire, bambini, in un qualche modo. E quindi ti domando, secondo te il calcio è il nostro diritto essere bambini, come dire, è il nostro diritto a giocare, anche quando si è un po' più grandicelli, si è cresciuti? È solo nostalgia o è qualcosa di diverso? No, basta con la nostalgia e non bisogna cadere nella trappola. La nostalgia è sempre una trappola molto insidiosa. Invece, come diceva Vittorio Foa e altri, bisogna veramente avere nostalgia del futuro più che del passato. Direi che dovrebbe essere, dovrebbe riallacciarci a quella sovversione e disubbidienza che si prova da bambini. E che è la stessa disubbidienza che porta un Paolo Rossi, a cui abbiamo voluto bene tutti quanti e vorremmo sempre bene, ci mancherà sempre tanto, come ci manca, non so, Massimo Truisi o altre persone, proprio perché era irriverente, perché uno così piccolo e anche fisicamente non imponente, che riesce, grazie all'agilità e all'istinto a fare tre gol al Brasile, è quelle cose che succedono una volta sola ogni tanto e fanno parte dell'aspetto quasi magico, oserei dire quasi al pensiero magico, comunque dei miracoli che qualche volta è la vita a cui abbiamo assistito. Io direi forse abbiamo dimenticato. In questo caso l'Italia veniva, insomma arriva al Mondiale di fatto, essendo poi come se vuoi nel Mondiale del 2006, comunque in una situazione in cui ha tutti contro, no? In un qualche modo è una squadra e quindi veramente riesce, come dire, a sovvertire quello che, mentre invece nel 90 dove l'Italia forse era una delle squadre più forti, forse quella destinata a vincere le nostre notti magiche, non sono state abbastanza magiche. È l'imprevedibile, è il fuori margine, è quello che accade fuori da ciò che è, in fondo se vogliamo, è anche il meccanismo della comicità e questo ci porta allegria, perché la comicità è sempre subversiva, è sempre mancina, è anche il calcio, infatti i mancini sono tra i più grandi eroi del calcio, perché c'è un lato mancino della vita ed è quello che, non so, nella vita i prepotenti vincono e i prepotenti si aprono le porte, ai prepotenti riesce tutto, perché hanno potere, perché hanno forza economica, perché sono abituati a vincere, ma se questo è un episodio che fece la fortuna di un giovanissimo Frank Capra, se in una comica noi abbiamo un gigante di fronte a una porta chiusa e quella porta a lui non si apre, ma poi, questa fu una sua idea, poi facciamo entrare un gattino oppure un neonato che gattonando spinge quella porta e a lui quella porta si apre, noi ridiamo, perché quello è il contrario di quello che accade nella vita, perché nella vita agli esseri inermi più fragili, più vulnerabili, le porte non si aprono, ma se in un film comico o ecco, in un libro, in un romanzo questa cosa succede, è come se ti restituisse un senso di giustizia e il calcio, il calcio certo di una volta, ma ancora adesso potrebbe restituire questa speranza. Ora, è così che lo interpreto, è per questo che mi affascina, che continua ad affascinarmi. E tra il mondiale mio da bambino e il tuo, diciamo tra il 70 e l'82, in mezzo c'è qualcosa che anche è stato importante per me, cioè c'è l'Olanda, c'è il gioco dell'invenzione. Ora, l'Olanda che inventò il gioco a zona, il calcio totale. C'era il mondiale, no? Sì, che appunto, a proposito di sconfitti e di epica dei perdenti, riesce a perdere ben due finali mondiali, però essendo la squadra che fa il calcio più bello al mondo, e ecco, quella, anche l'Olanda mi influenzò tantissimo. Posso dire, influenzò la mia, se posso dire, idea di letteratura, perché io ho un'idea di letteratura, vorrei poter dire, di letteratura totale, come il calcio totale dell'Olanda. Per me, quando mi chiedono qual è lo scrittore e ti ha influenzato di più, a volte, un po' provocatoriamente, rispondo Cruif, perché Cruif per me era uno scrittore, era uno che, quando Soriano dice, ci sono tre tipi di calciatori, quelli che mandano la palla là dove tutti vediamo che la palla debba andare, in quella zona di campo. Poi ci sono quelli che invece la mandano in una zona che nessuno di noi ha visto, sulla fascia, perché qui, non so, dei lanci geniali, totti o grandi numeri dieci. Poi ci sono i poeti del calcio, che sono quelli che inventano uno spazio dove uno spazio non c'è. Cruif era questo, Cruif inventava il campo, si allargava. E questo è quello che dovrebbe fare anche uno scrittore in letteratura, scrivere le pagine che non sono state scritte, farti vedere una cosa da una prospettiva, come dicevi un po' all'inizio, forse, in cui non abbiamo ancora visto da quel lato. Improvvisamente ti accorgi che il campo è molto più largo delle misure che ha. Ecco, quelli sono stati, per me, la maglietta arancione, Cruif, l'Olanda, il gioco che faceva, lo schema, l'irribaltamento dello schema. Ma già il Brasile, anche di prima, che giocava il Brasile al 70, lo schema era 4-6-0, e anche quello dell'Olanda. Erano tutti davanti e tutti dietro. Ecco, quell'idea lì era un'idea politica, era un'idea sociale, in fondo veniva dalle rimendicazioni degli anni 60, dalle proteste, dal 68, ma anche dalla dalla forza degli studenti, da tutto quel fermento lì si era tradotto in una visione del mondo. E quello l'abbiamo perso. Ci siamo un po' incardinati in schemi logori, antichi, usurati, senza fantasia. Sì, adesso mi veniva in mente Boscov, rispetto ad alcune cose che dicevi di Soriano, che divideva in queste tre categorie, che diceva che un grande giocatore è quello che vede delle autostrade, dove gli altri, in sostanza, vedono solo, diciamo, dei sentieri. O mi veniva in mente una cosa che vi credo citato anche tu in qualche altra intervista, Arpino, che diceva che gli scrittori poi devono prendersi, diciamo, dei rischi, anche con, come dire, grazie al loro eccesso di umanità, diciamo così. In mente che, diciamo, un Maradona, per dire, alla fine è stato, come dire, un ribelle, o meglio, un non allineato, un irregolare, diciamo così, vincente anche, con grande fatica, con, come dire, fuori dal sistema, contro un sistema, no? Comunque, a Napoli ha fatto miracoli, fondamentalmente, e anche, insomma, se pensiamo alla partita, quella famosissima partita con l'Inghilterra, dove lui, quindi in un contesto anche politico, no? Perché quella è la prima partita dove l'Inghilterra e l'Argentina si incontrano dopo le Falkland o Malvinas, e lui fa questo gol bellissimo di pugno, secondo me anche, e poi il secondo gol, che, come dire, insomma, se il primo era un furto, no? In un qualche modo un gesto creativo, il secondo, come dire, non mette a tacere qualsiasi, insomma, di una bellezza tale, no? Naturalmente che... La mano di Dio, la mano di Dio. E quindi ti volevo chiedere, no? Per esempio, Maradona, no? Fa parte del tuo, come dire, della tua mitologia, del tuo pantone. Io, sì, poi Maradona portò alla vittoria appunto il Napoli, che non aveva vinto, e come appunto si schierò dal lato, da un certo lato al marciapiede, come Riva, che rifiutò il trasferimento al nord e restò a Cagliari. In questo hanno un lato sicuramente romantico anche, ed è fortemente identitario. Io ho avuto la fortuna, attraverso la letteratura, e mi ha regalato tante sorprese nella mia vita e soprattutto tanti incontri, quindi tanta umanità. Ho avuto la fortuna a un certo punto, ma per un caso curioso di intercettare Gianni Minà, di andarlo una volta a casa sua, dove ci avevano chiesto di fare un libro intervista insieme, per il Comune Amore per il Sud America, la letteratura sudamericana. Poi invece, da quel libro intervista che non si fece, io restai per un anno, tornai per un anno a frequentarlo, andare a casa sua nel suo studio, dove addietro della scrivania è il ritratto fatto da Siqueiros, che è uno dei più grandi muralisti messicani, fatto il ritratto di Gianni Minà. Da quell'anno uscì poi un libro che si chiama Storia di un Boxer Latino, pubblicato proprio dalla Minimum Fax, che è la storia di Gianni, della sua vita, del suo amore per il giornalismo, in cui lui in quell'anno mi raccontò tante cose, mi raccontò tanto del suo rapporto con Maradona, tra l'altro da poco è uscito anche un libro su Maradona, sempre per la Minimum, sempre di Gianni. E Maradona fa parte di quella schiera di atleti come Mennea, per esempio, sempre antisistema, sempre, come dicevi tu, irregolari. Vicino a loro ci sono anche scrittori, ci sono, non so, gente che ha lottato per i diritti e i contadini, ma cioè è un'umanità che si riconosce in qualche modo. Maradona era come qualcuno che conoscevamo prima che fosse apparso. Per me era, posso dire, in qualche modo aveva le caratteristiche anche fisiche di persone che conoscevo, vorrei dire uno della mia famiglia, ma in qualche modo nel senso che ho conosciuto tanti Maradona. Sì, sì, ma poi lui il suo talento lo faceva, rendeva unico, naturalmente, tra l'altro è sempre affascinante il momento in cui si manifesta il talento di qualcuno e mi piace anche nelle storie che ho scritto così, spesso, perché accade nella vita un momento in cui riconosci una vocazione, riconosci qualcosa che tutti abbiamo un talento, è semplicemente sai fare, non voglio dire sei nato per fare quella cosa, ma comunque sei portato, perso quella cosa lì. Il talento di Maradona si manifestò prestissimo e fu uno scrittore, e furono due scrittori, tra l'altro, in un carteggio, furono proprio quelli che citavi tu, Soriano e Arpino, ho trovato le lettere, me ne parlò di questo, un altro Gianni, grande Gianni, che ci manca, Gianni Mura, e magari adesso avremo modo un attimo di ricordarlo, che mi disse che esisteva questo carteggio, in effetti l'ho trovato, in cui c'è Soriano che scrive ad Arpino e gli dice, guarda c'è un ragazzino qui in Argentina che fa cose strabilianti, fantascientifiche, ma perché non lo, tu che vivi a Torino, non lo, e Arpino lo pare che lo abbia suggerito addirittura al Torino, immaginate anche se Maradona fosse arrivato al Torino, avessi indossato la maglia granata, ma nessuno poi, però se ne accorse, era veramente un ragazzino, ma gli occhi di uno scrittore lo avevano già visto, l'avevano capito qual era quella materia umana, quel gol che citavi, il gol di mano, adesso proprio mentre parlavi mi viene in mente la mano di Dio, che è anche quasi un titolo letterario, potrebbe essere, in effetti riporta tutto anche alle mani, sembra strano perché le mani nel calcio le usano solo i portieri, no? Però anche quello è un artigianato, tutto passa attraverso le mani, la scrittura, il calcio naturalmente attraverso i piedi, ma attraverso il corpo, io ho un'idea molto manuale della scrittura, ed è bello che Maradona abbia inventato qualcosa che non sia riuscito a segnare un gol con una parte del corpo che non poteva usare, ma senza farsene, in fondo è quella che Borges chiamava finzione, le finzioni, Maradona veniva da lì. E invece Borges non amava il calcio a differenza di Soriano, anche se mi pare che ogni tanto gira una frase attribuita a Borges, non so, che diciamo che ogni volta che un bambino gioca pallone da lì ricomincia, diciamo rinasce il mondo, si ricrea, non so se sia una frase severa, diciamo meno. Però diciamo tu adesso, prima città di Minà, con la tua complicità appunto è uscito questo libro di racconti di vita, diciamo abbastanza incredibile, perché appunto fanno un po' impressione veramente queste incredibili relazioni di Minà, mi viene in mente Fidel Castro, mi viene in mente che Maradona è morto il giorno in cui è morto best, in cui è morto Fidel Castro, quindi forse poi ci sono anche dei destini che in qualche modo uniscono alcune persone. E però parlavamo di Minà anche come un grande raccontatore di storie, un grande intervistatore, un grande uomo anche, se vogliamo, di televisione, perché la sua trasmissione Blitz fu, diciamo, qualcosa di molto nuovo e insomma un modo diverso di raccontare lo sport e citavi adesso Mura, no? Che invece insomma con cui ha avuto un rapporto particolare e che fa parte appunto dei grandi narratori, no? Tantissimo. Dire di sport sarebbe poi anche diciamo limitante. Guarda, io ho per Gianni Mura appunto un affetto che non finisce, siamo ancora amici, come ho sentito dire, perché l'amicizia non finisce neanche con la morte di uno, dei due. Ma Gianni mi ha insegnato tantissime cose, gli devo davvero, davvero tanto, perché lui andava dritto al cuore delle cose quando scriveva, non aveva schermi in qualche modo, riusciva a restituire con una velocità disarmante l'emozione di quello che vedeva di una partita di calcio, di una tappa del Tour de France, perché era profondamente immerso proprio nel respiro di quello che accadeva ed era un narratore formidabile, per me non era un giornalista sportivo, sarebbe riduttivo definire questi grandi giornalisti soltanto settorialmente, per me era un grande scrittore e basta. Tra l'altro ha avuto anche un ruolo fondamentale nella mia vita, perché in fondo io esordì, pensa, proprio con un racconto di calcio, ma è davvero curioso. Nel 2000 o 2001 si fecero una rivista che si chiamava Rigore, ed era una rivista che doveva parlare di calcio e letteratura, era una rivista in realtà quasi aveva il formato di un quotidiano grande, di non molte pagine, e ci lavorava un giornalista, un amico mio, che mi disse, senti ma noi qui stiamo cercando anche dei racconti inediti, lui sapeva che io scrivevo, insomma, e scrissi per questa rivista un racconto molto breve, che era la storia di un portiere, non so se questo te l'ho mai raccontato, ma era la storia di un portiere e di una specie di finale tra una squadra blasonata e una squadra invece di povera gente, indios, gente così, insomma, ai margini. Piano piano, visto che non riuscivano a vincere i forti, diciamo, grazie all'aiuto dell'arbitro, piano piano l'arbitro iniziava a espellere tutti i giocatori avversari, quindi da 11 diventavano 10, 9, 8, 7, finché, però la partita rimaneva inalterata sul pareggio, 0 a 0 in amovibile. Loro prendevano la palla, la tiravano più lontano possibile, finché espellono tutti e 10 e resta solo questo portiere contro 11 avversari. E questo era il racconto, che alla fine, come tutti i portieri, naturalmente doveva finire per capitolare, perché le storie dei portieri sono le più belle, perché sono storie di sconfitte, storie di rese, ma anche di, in qualche modo, di ostinate resistenze. pubblicarono, bontà loro, questo racconto, e incredibilmente andò nelle mani di Gianni Mura, questo quotidiano, gli mandarono il primo numero, era proprio nel primo, nel secondo numero, e mi ritrovai un giorno, ero in biblioteca, io sono un bibliotecario, in biblioteca avevano questo giornale, Repubblica, e nella sua rubrica Sette giorni cattivi, i pensieri, Gianni mi aveva citato, mi aveva dato un voto, e aveva parlato anche di Osvaldo Soriano, che era naturalmente l'ispiratore principale, anche per me, lo scrittore importante. Da lì lo ringraziai, poi abbiamo cominciato a scriverci, lui prima che io pubblicassi, mi citò anche altre volte sul giornale, cercando insomma di darmi una mano, perché era di una generosità enorme, di un'allegria anche, perché davvero senza gioia non siamo niente, e lui sapeva vivere e vivere lo sport fatto in questo modo. Ho avuto la fortuna di andarci a cena, e quindi anche in un altro modo importante. Allora sai, sai come, che scene meravigliose che andavo con lui. Tu parlavi anche di politica, no? Naturalmente, quindi il calcio è anche politica, lo è stato magari in determinati momenti, quando l'Argentina ha dovuto vincere, diciamo, il mondiale, ma è anche, diciamo, la democrazia corinziana di Socrates, no? Per dire... So. E oggi naturalmente, diciamo, quel mondo che tu raccontavi delle curve, no? Dello stadio, no? Di solidarietà, sembra che abbia un po' mutato colore, fondamentalmente, no? Anzi, in molte situazioni, ma pensiamo anche all'ex Jugoslavia, insomma, l'esplodere della guerra dopo la morte di Tito avviene, no? Ma partendo anche da gruppi, diciamo, posti di tifosi, no? A Belgrado, della Stella Rossa e del Partisan, eccetera, eccetera. E quindi probabilmente qualcosa è cambiato anche, diciamo, in questo mondo, no? Insomma, forse lo rende un po' meno romantico e forse, come dire, anche quello che era il divertente tifare contro, no? Perché poi anche tifare contro, diciamo, secondo me nel calcio è ammesso, però, diciamo, oggi come oggi comincia forse a mutare un po' anche di colore, di sapore. Sei, diciamo, tu che cosa ne pensi? È un discorso molto delicato, bisogna cercare, sforzarsi di vedere la realtà per quello che è, ed è vero tutto, tutto quello che dice, per questo fa ancora più male, fa ancora più dolore, in qualche modo, perché, ma è lo specchio davvero di un mutamento ancora più ampio della società e di tutto quello che accade. Io credo che ancora sia molto attuali tutti questi discorsi, sia molto attuale anche il discorso della lotta di classe, per esempio, anche se è un'espressione desueta, ma le classi esistono, anzi, non soltanto, ma sono ancora più marcate, volendo, i poveri sono più poveri, i ricchi più ricchi, la disuguaglianza, l'ordine omicida del mondo è ancora più omicida, è ancora più divaricante, divisivo. Soltanto adesso c'è anche la violenza dei poveri contro i poveri, che è quella che fa più male, nel senso, perché naturalmente è un sistema che è riuscito a mettere tutti contro tutti e quindi a impedire forme di solidarietà o anche di opposizione collettiva. Ora, per me è come un po', il calcio è un po' come la poesia, il calcio intendo quello vero, quello a cui cerchiamo di riferirci noi oggi parlando, è come la poesia, in questo senso, tutti i poeti sono stati sempre perseguitati dai dittatori di tutti i tempi e di tutti i posti della terra e uno si può chiedere perché, perché in fondo un poeta è un essere innocuo, scrive poesia, non fa male a nessuno. Eppure hanno fucilato i poeti sempre, Garzia Lorca è uno dei più recenti, ma è così anche i poeti del calcio in qualche modo sono sempre stati messi al bando. citavi Socrates, che per me era un mito, un po' perché da ragazzo mi diciamo pure che un po' gli somigliavo quasi, o almeno mi sarebbe piaciuto somigliargli, ma era di una lucidità l'esperienza di quella squadra. La sua è il libro dove lui racconta la sua vita, è illuminante in tutto questo, ma sono sempre stati gente che ha pagato molto per aver detto spesso e in maniera scomoda la verità. La verità dovrebbe essere questa, non c'è posto per la violenza, non c'è posto, lo stadio non può ospitare la violenza in nessuna forma, in nessun modo, tra l'altro proprio in questi giorni, sono successi due giorni fa degli scontri a Roma, la devastazione della sede di un sindacato, è qualcosa che fa male. Ora, come opporsi alla violenza, alla prepotenza, allo squadrismo, a tutto quello che con il calcio non c'entra, alla manipolazione strumentale, al fatto che si fa prosilitismo politico da parte reazionario, proprio nei subborghi, oppure dove invece bisognerebbe promuovere battaglie per i diritti in altra forma, come opporsi? Io credo che ci si debba opporre con il coraggio della vulnerabilità e della fragilità, cioè opporsi andando inermi contro i facinorosi. Naturalmente chi deve far rispettare le leggi che le faccia rispettare, ma sì, lo scandalo è proprio, appunto, e questo mi riviene in mente il fisico di Paolo Rossi, che è quasi così una bandiera di fragilità, non di forza. E quel tipo di agilità, oppure di Bruno Conti, o di Garrincia, Angeli dalle gambe storte, come è stato detto, e in qualche modo la nostra provocazione deve essere deve essere questa, cioè stare non so, dal lato dei geppetti, appunto, ritrovare anche in un mondo così complesso e complesso come quello come quello del calcio adesso. Senti, mi sono sempre domandato perché non ci fossero, cioè il calcio mi sembra che insomma sia letteratura, no? Mentre invece non è cinema, perché non esistono grandi film legati al calcio. Sei, c'è qualcosa, però adesso ci sono delle serie tv, però devo dire che di solito il calcio è sono libri, sono storie, sono appunto Soriano, sono Galeano, sono tutta una serie di appunto Gianni Minà, piuttosto che che comunque a limite era televisione, la radio, Gianni Mura, eccetera, eccetera, ma non è cinema. Quindi c'è un rapporto particolare di la literatura che invece il calcio non ha con il cinema? È interessante questa osservazione, probabilmente essendo a suo modo una forma di spettacolo è anche quasi competitiva rispetto al cinema, eppure è così ricco di storie, le storie di chi lo gioca, le storie dei calciatori, le storie di chi lo guarda, le storie degli allenatori, Scopigno, un altro filosofo se vogliamo ideale che non si ricorda più ma era meraviglioso, allenatori che sapevano di letteratura, io per esempio l'altro giorno ero a Lanciano in un teatro perché davano un premio a Remo Rapino e il Lanciano che è una squadra che adesso è in insomma in eccellenza non ti ho sentito scusa, ma c'è un'ore diciamo, sì, 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 è proprio e adesso in questo momento è senza allenatore, ora mi è venuta un'idea gli ho detto in questo teatro oltre a premiare Remo per il suo romanzo offritegli la panchina del Lanciano non hanno da perdere nulla è un appello che faccio anche adesso non c'è anzi magari si andrebbe sui giornali di tutto il paese ma forse anche oltre il paese è il mio sogno che gli scrittori segano in panchina perché ci vuole proprio il ritorno alla fantasia uno scrittore si può inventare di tutto degli schemi mai visti e a proposito di questo c'è per me il libro più bello sul calcio e di letteratura e calcio da cui si potrebbe trarre un film e se c'è un regista mi candido pure per la sceneggiatura ma perché è un racconto che spesso anche nelle scuole si chiama memoria del mister Peregrino Fernandez di Osvaldo Soriano è il racconto incompiuto è un po' il testamento di Soriano che lasciò pubblicato dopo la sua morte e sapete Soriano morì relativamente giovane 58 anni credo era un brutto male e stava terminando di scrivere questo questo romanzo su un allenatore che amava così tanto il calcio ma che era così irregolare che per esempio faceva entrare due numeri due giocatori con la maglia numero 7 si inventava delle figure che non esistevano dei ruoli per chi piaceva che la palla danzasse davanti la linea di porta ecco io mi sarei candidato anche per la panchina della Roma ma hanno preso da poco un altro e non il posto è occupato ma sarebbe bellissimo ci divertiremmo tutti e almeno almeno che che si tornasse all'elogio della fantasia ecco che è una cosa che forse questa si ci manca ma io non credo che si sia persa è in letargo però proviamo a svegliare ultime due cose molto velocemente ma secondo te se Garrincia avesse avuto i social sarebbe stato sempre diciamo una figura mitica del calcio ne avremmo perso qualcosa avremmo saputo più cose su di lui ma guarda vale per i social quello che vale per tutto il resto delle comunicazioni tra gli esseri umani non vanno demonizzati secondo me vanno semplicemente usati nella forma corretta cioè di rispetto del dobbiamo sforzarci di pensare un modo di stare al mondo e di interpretare le relazioni con gli altri correttamente e la parola per me chiave è rispetto e io credo i social lo avrebbero adorato perché appunto somigliava ad un uccellino era un candido un visionario un poeta era stato segnato dalla vita aveva rovesciato un problema gravissimo come la poliomilite che gli aveva accorciato una gamba invece in un punto di forza inventandone inventando quella finta che nessuna a cui nessun difensore poteva resistere perché bisognava avere una gamba più corta per proteggiarlo ecco a me mi hanno sempre affascinato le storie di chi rovescia un danno un handicap un in in qualche modo è quella mossa lì quel rovesciamento della scacchiera e è quasi è quello ci vuole fantasia per fare quella cosa è l'unica quello che possiamo perché tutti saremo segnati dalla vita ci è questa cosa qui c'era un proverbio che che mi piace ripetere sempre era di Gian Battista Vico che diceva una frase sembrano traversie ma sono opportunità ecco i guai quello che ci capita nella vita può diventare anche un'opportunità se è vissuto bene e se troviamo il modo di esprimerlo e di esprimerlo nella forma corretta che può essere sui social o insomma andando a bere una birra o insomma esatto e non hai avuto particolari problemi con Neri Marco Rey Juventino evitiamo no ma Neri appunto è molto è molto rispettoso ed è ed è uno Juventino discreto ecco ma io non dispero comunque di di farlo sì sì prima o poi insomma ma però Neri è anche uno che è preso un aero è salito su un aero quando il Leicester ha vinto lo scudetto andato a festeggiare insieme ai tifosi del Leicester ecco lì perché c'era anche Ranieri allenatore storico allenatore diciamo della Roma e quindi vedi insomma un ponte verso altre altre io ti ringrazio grazie a te e a voi ci hai dedicato le storie che ci hai raccontato immagino adesso citavo quando la vita era piena di gol che fosse una condizione ideale e anche quella di come dire adesso ci salutiamo e andiamo a partecipare a quel mondial mai giocato in Patagonia diciamo come dire ritorniamo in degli spazi mitici forse inesistenti appunto del calcio con anche dentro un po' la magia il racconto e insomma libri letteratura e partite palloni dove tutto un po' si confonde che forse diciamo è la cosa migliore per riuscire a rimanere anche bambini in maniera diciamo come dire anche da grandi e ti ringrazio tantissimo e grazie